La Beata Vergine addolorata aiuta ad avvicinarsi al mistero di questa contraddizione, Gesù vincitore ma sulla croce. Nella messa celebrata a casa Santa Marta, Papa Francesco delinea Maria come una donna forte e coraggiosa, la prima discepola che ha vissuto tutta la vita con l'anima trafitta. E nel momento di maggior dolore non rinnega il proprio figlio, ma mostra il suo viso. Questo che io dico adesso sono piccole parole per aiutare a contemplare in silenzio questo mistero. In quel momento lei ci partorì tutti noi, partorì la Chiesa. Donna, le dice il figlio, ecco i tuoi figli, non dice madre, dice donna, donna forte e coraggiosa. Donna che era lì per dire questo è il mio figlio, non rinego di lui. Non rinnega il figlio, 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 non rinnega il figlio.